Tre punti importantissimi, quelli che il Marina di Ragusa in Serie D si è guadagnata dopo un'ottima partita disputata ieri sul campo del Messina. Da una parte proprio la CR Messina, scese in campo con qualche problema di troppo in testa e subito riflesso anche in gran parte del gioco. Poco mordente per i padroni di casa che nulla hanno potuto, contro invece un determinatissimo Marina. Il risultato finale di 1-0 per i ragazzi di Mister Ultra che tornano a festeggiare per la seconda vittoria in trasferta, anche se con l'unico rammarico di essere ancora sotto di due punti dall'obiettivo della zona salvezza. Si è vista una squadra che ha saputo ottenere il centrocampo con compattezza e ordine, ha affermato Mister Ultra a termine partita. I ragazzi hanno continuato a mostrare quella voglia e forza mentale che avevano già fatto vedere contro il Corigliano, il Nola, il Savoia e infine anche il Palermo. Insomma, per il Marina di Ragusa, da qui fino alla fine del campionato, ogni match sarà determinante per restare in Serie D. Prossimo appuntamento contro il Giuliano al quarto posto in classifica. In eccellenza, sabato il Ragusa ha liquidato per 2-0 la pratica contro il Real Siracusa, continuando quindi a coprire uno di quei posti della classifica che contano. Gli azzurri tra le muramiche si sono imposti grazie alla doppia marcatura di Lentini, ipotecando il successo finale già dopo 36 minuti. Nella ripresa i padroni di casa hanno badato più che altro a contenere gli ospiti, animando una serie di ripartenze che però non sono state concretizzate nella maniera migliore. La quarta posizione in classifica, conquistata con 5 vittorie nelle ultime seggare, afferma mister Alessandro Settineri, significa che qualcosa di buono questa squadra avrà fatto ed è giusto elogiare i ragazzi. Una squadra che sembra adesso aver quindi ufficialmente un assetto solido dopo settimane di incertezza. Sempre in eccellenza anche il Santa Croce che finalmente torna a vincere 1-0 in casa contro l'Enna e con in panchina mister Gaetano Lucenti che torna dopo un mese di squalifica. Erano ben sette turni che la formazione del Cigno non vinceva e questa vittoria si presenta bene per allontanare una crisi tecnica e risultati deludenti. In promozione grandinata di Reti da parte del Modica Calcio di Filippo Raciti che al Vincenzo Barone ha battuto largamente la Don Bosco 2000 Aidone che prima di tirare in remi in barca ha giocato a viso aperto dimostrando che l'attuale classifica che occupa non dice tutto sulla determinazione e la grinta della squadra. Il rosso-blu del neotecnico Giovanni Occupinti infatti a inizio match hanno messo in difficoltà i tigrotti che sono entrati in campo poco concentrati pagandone immediatamente Dazio già dal terzo minuto di gioco però poi è cambiato tutto. Il Modica spinto dal calore dei propri tifosi non si è scomposto riordinando le idee iniziando ad attaccare a testa bassa per cercare immediatamente il pareggio che è arrivato al 42esimo ed ha aperto al rimonte implacabile da parte dei padroni di casa. Alla fine tre punti preziosissimi sia per la classifica dove il Modica difende il quinto posto sia per il Morale per affrontare al meglio la doppia trasferta di Caltagirone Siracusa con la convinzione che nelle zone dell'alta classifica tutto è ancora possibile. Nulla da fare invece per la Virtus Ispica che perde fuori casa 1-0 contro la prima in classifica il Megara Agusta sconfitta quella della Virtus Ispica che pesa anche sul Pozzallo dato che non è bastata la sua vittoria 2-1 contro il Frigentini per accorciare le distanze dalla capolista che attualmente dista dal Pozzallo solamente tre lunghezze. A cercarsi uno spazio in zona playoff è invece il Comiso che seppur vincendo 2-0 contro la Riccardo Garrone Siracusa non entra di diritto tra le prime cinque conservando un distacco dal Modica di due punti. male invece per l'Atletico Scicli che delude in casa 2-1 contro la Leonfortese.